Ci siamo? Sì Registrando? Ciao amici di Rhapsody Oggi siamo qui con Oran E... Sono sicura che ho un po' di spazio Sono sicura Se mi dai del tu io rimango Sennò me ne vado Quindi lei ha anche scritto un libro? Tu Adesso vedremo gli streetcler No dai raga Parla Quanto ad ora è l'intervista? Oggi siamo qui con un ospite Senti po' Stiamo sul panorama italiano Dove eravamo fino adesso? Ciao Radio Bocconi, TV Bocconians Mafia in vestiti Accadimento C'è ce l'hai? Cosa devo fare? Un momento di sbarazzante Sì, è abbastanza Arrivando Ecco, ci stanno chiamando al teatro È proprio un attore In diretta di social di intervista Ti chiamo dopo, ciao Una domanda articolata Ma si taglia poi il montaggio? Sì, sì, si taglia Troppo facile allora Sì, sì Ma dobbiamo ridirla Un saluto da D'Evvocato Massimilide E basta me lo fare a me Un saluto da Silvia Un saluto da Silvia